Ospedale Veneziale di Sernia, stamattina, all'esterno del pronto soccorso si è consumata l'ennesima protesta dei medici di quel reparto. La questione, nonostante i ripetuti appelli del passato, irrisolta, si può riassumere così. Tanti utenti, ancora di più da quando del pronto soccorso del Santissimo Rosario di Venafro resta solo uno sbiadito ricordo, pochi, troppo pochi i medici, qualche numero per rendere l'idea. A fronte dei 14 previsti la conta degli strutturati si ferma a 4 con la necessità ulteriore di coprire anche l'ospedale di Agnone. Le conseguenze di tale ormai endemica criticità sono facili da immaginare, spiega il dottor Benedetto Potena. Si può immaginare come dobbiamo fare i salti mortali, ricorrere a attività aggiuntive, ricorrere a persone di altri reparti. Ogni settimana è una lotta per riuscire a compilare il turno, ci riusciamo con difficoltà, con una qualità chiaramente del servizio che diminuisce, sia perché impieghiamo persone non abituate all'urgenza dell'emergenza, sia perché la stanchezza poi si fa sentire. I problemi analoghi, come dicevo prima, sono anche negli altri pronto soccorsi, a Termoli e Campobasso, loro sono messi appena appena un po' meglio di noi, ma comunque hanno neanche la metà della pianta organica prevista, neanche lì da noi. Abbiamo l'aiuto dei medici venezuelani, tutti e tre i pronto soccorsi, questi sono integrati bene, lavorano bene, ma chiaramente non sono autonomi, nel senso che non possono restare da soli, devono essere sempre affiancati, anche a livello legale da uno strutturato. Gli altri reparti, ultimamente la pediatria è andata in grossa sofferenza, l'ortopedia non so come facciano neanche loro, sono rimasti due, forse tre persone con i recenti pensionamenti e quindi la situazione è questa. In una situazione, purtroppo il modice non è attrattivo, i medici non vengono, qualcuno che viene si rende conto un po' delle condizioni di lavoro e fugge, scappa. Eppure una soluzione pur temporanea per una carenza degli organici che in realtà colpisce tutti gli ospedali pubblici della regione ci sarebbe, ribadisce il primario facente funzioni, dottor Lucio Pastore, ricorrere cioè sulla falsa riga di quanto fatto già in Calabria al supporto dei medici di emergency. Chiediamo che come è successo in Calabria, anche qui da noi, possa venire per un periodo emergency ad aiutarci ad evitare questo stato di crisi per mancanza di personale e almeno superare, sperando che si possa determinare una situazione migliore, questa fase in cui stiamo vicino al collasso di sistema. Ora, se il collasso di sistema lo si va cercando, ormai siamo arrivati alla fine, ma non è un fatto casuale, è una volontà politica per cui bisogna collassare. Se invece si vuole dare una risposta, noi abbiamo offerto una possibilità concreta che ha avuto anche un riscontro in un'altra regione e non si capisce perché nessuno vuole cercare questa strada e possibilmente trovare in questo modo una soluzione temporanea al problema.